La targa della discordia è quella che vede la firma di Putin, protagonista con la città di Bali e che risale a lontano 2003. Attualmente esposta in piazza San Nicola, a causa del conflitto scoppiato tra Russia ed Ucraina attraverso la piattaforma change.org, sono state raccolte firme virtuali per farla rimuovere, sostituendola con una in grado di ricordare e rappresentare l'amicizia ed il forte legame tra il capoluogo pugliese ed il popolo russo. Su questa questione è arrivato anche il parere del sindaco Antonio De Caro, il primo cittadino barese accantona questa ipotesi. Non è una targa dedicata a Putin, è una targa che era stata collocata lì nel giorno della donazione. Io non sono favorevole a cancellare pezzi di storia della nostra città, quello comunque è un pezzo della storia della nostra città. Si potrà magari mettere vicino un epigrafe per spiegare la posizione della città rispetto a quella targa, però credo che cancellare pezzi di storia non sia mai opportuno, tranne i casi del tutto eccezionali.